ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video per quanto riguarda i miei must have del 2020 e questo video è in collaborazione con le makeups angels quindi un video che riguarda me fabiana elisabetta per questa volta abbiamo deciso visto che non so quale vedete prima o per quanto riguarda la parte low cost per quanto riguarda la parte high cost ebbene questa è la parte high cost ho messo si vogliono suicidare comunque ho messo qualcosa qua dentro per farvi vedere i miei must have quindi io direi di sorseggiare qualche cosa io mi sono fatta un tè sempre per il fatto di bere e ve lo consiglio perché questo mi è stato consigliato consiglio consigliato da betty questo è il tè bianco con mango e limone questo è il tè aspettate che si vede così ecco questo è il tè bianco con mango e limone è buonissimo ve lo consiglio tanto allora iniziamo come primer occhi sinceramente non ho niente da farvi vedere per quanto riguarda i cost perché spesso mi capita di utilizzare quelli low cost direttamente però abbiamo qui il correttore della mac che è quello che io preferisco di più in assoluto perché ancora non ho utilizzato altri prodotti voglio specificare questa cosa è un po scuro per utilizzarlo perché io di solito utilizzo una base diversa e ancora non ho utilizzato altre altre cose di delle cose che ho acquistato perché con il fatto che non si poteva uscire e altre cose automaticamente diciamo ci si trucca di meno e in automatico vado cercando le cose che diciamo low cost perché anche bisogna anche guardare nelle proprie tasche no e quindi certe volte si deve utilizzare le cose low cost come palettina mia preferita in assoluto vi faccio vedere la new nude di uda beauty perché è veramente la mia preferita in assoluto e il range di colore che io preferisco veramente e quindi è quella che scelgo sempre quando mi devo truccare allora metto il color b bair si questo qui lo metto su tutta la palpebra come se fosse una cipria poi andiamo a prendere io volevo fare una cosa monocromatica sinceramente perché poi volevo utilizzare dei glitter con il beige di vorrei fare un qualcosa con il beige quindi prenderò teddy e lo metto qui come ombretto da sfumatura io con questi ombretti mi trovo veramente molto ma molto bene mi piacciono tantissimo mi piacciono perché si lasciano sfumare in 0 2 veramente ed è una cosa che preferisco tanto mi piace sia il prodotto che puoi stratificare ma anche il fatto di della pigmentazione questa è un'ottima ottima palettina poi prendo un altro pennello e metterò brave su tutto l'occhio sulla palpebra proprio mobile voglio questo colore perché poi al centro metterò l'altro sembrano uguali ma non lo è perché rave è più rosso invece l'ombretto che abbiamo messo poco fa è una tonalità più terra bruciata marroncino tipo terra bruciata questi ombretti sono favolosi e poi sfumo adesso voglio utilizzare un ombretto liquido questo qui è di stila io ho utilizzato altri colori però vi faccio vedere questo perché è bellissimo proprio su un trucco così diciamo con toni abbastanza caldi l'unica cosa che non lo applico direttamente dal dall'applicatore ma lo applico con il pennellino perché mi trovo meglio fare in questa maniera e poi lo applico applicandolo con il pennello vi facilita di più la sfumatura dell'ombretto perché non ne va troppo non ne va poco quindi potete bilanciare su per giù il prodotto invece se lo prendete dall'applicatore mi viene male perché ne rilascia molto di più ecco facciamo anche l'altro occhio adesso andiamo a prendere il colore più scuro sempre rave e lo andiamo a mettere ho toccato un altro colore allora aspettate che prendo il pennello prendo di nuovo rave e lo vado a mettere proprio qui all'attaccatura sfumandolo metto sempre rave perché voglio questa parte più scura quindi cerco di aprire e lo faccio andare qua sopra la stessa cosa di qua allora come matita all'interno dell'occhio metterò la Velvet Line di Nabla sinceramente non trovo che sia ottima però è la matita high cost più diciamo performante che ho e quindi la utilizzo per quanto riguarda il mascara non ne ho di high cost quindi off camera metterò il mascara e tornerò subito ho messo il mascara adesso andiamo a mettere il primer viso quello che ho utilizzato quando diciamo allora l'ho utilizzato due o tre volte però devo dire che mi è piaciuto tantissimo queste due o tre volte che l'ho utilizzato e infatti si vede io non lo so se la fotocamera riesce a farvi vedere fino a che è arrivato qua perché l'ho utilizzato ovviamente alcune cose si utilizzano si provano nel frattempo la metto ho messo il primer io lo metto di più in questa zona allora a me questo primer piace prima di tutto perché mi rende la pelle abbastanza luminosa e devo dire che mi piace l'effetto sulla pelle io ho una pelle matura e mista a secco quindi in base alla mia pelle andiamo a utilizzare i vari prodotti come prodotto must have per quanto riguarda i cost anche se non so se avete visto già il video per quanto riguarda i miei fondotinta nuovi il più amato in assoluto è il MAC cioè non so se si vede da dove siamo andati allora è qua non lo so se è quella la linea ok questo è water white no aspetta è water white giusto water white di MAC ed è un fondotinta adatto a una pelle matura a una pelle mista al secco e ti dà un effetto pazzesco allora io questo fondotinta l'ho utilizzato per un matrimonio e vi posso dire che quando sono ritornata a casa io il fondotinta ce l'avevo tutto quindi ho dovuto togliere proprio avevo pensato sinceramente che non rimaneva niente perché era estate maggio se non mi sbaglio e automaticamente avevo fatto mi sono truccata alle 6 di mattina perché alle 7 e mezza avevo la parrucchiera siccome dovevo attaccare l'extension dovevo fare tantissime cose ho detto vabbè mi trucco prima e speriamo che il make up rende tutto e avevo utilizzato proprio questi prodotti e il risultato è stato impeccabile prima di tutto cioè non ho né sudato sapete il viso è una cosa che succede spesso che si suda si tocca il viso io non ho avuto nessun tipo di problema ma proprio niente niente in assoluto figuratevi che io mi sono truccata da sola poi dove c'era la sposa c'era la truccatrice l'estetista e mi disse dice ma che ti ha truccato e gli ho detto perché c'è qualcosa che non va dice no 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 dice ti sei truccata bene dice l'ho capito che ti sei truccata da sola lei aveva capito che mi sono vabbè che lei sa che faccio i video su youtube e tutto quindi sapeva che mi sarei truccata da sola però mi ha fatto i complimenti mi fa sei stata brava e quindi sono rimasta contenta per quanto riguarda il correttore considerate che io ho comprato il correttore quando fu in estate quindi è adatto a una pelle diciamo abbronzata quindi io preferisco mettere il fondotinta qui nelle occhiaie anche se non ho grandi cose da nascondere quindi devo dire che come fondotinta mi piace mi piaceva prima e mi piace tuttora allora il giorno nello stesso giorno quindi nello stesso matrimonio io ho utilizzato la cipria di Too Faced adesso sono tutti usciti con la nuova cipria di Too Faced e quindi sono impazziti tutti ma io sinceramente l'avevo acquistato già 4 anni fa o 5 anni fa non mi ricordo più quando fu io l'avevo acquistato che ne parlava bene Giulia Cova quando fu e soprattutto e sembra la stessa la Prime e poreless e soprattutto l'avevo acquistata perché era in sconto era in sconto a 11 euro se non mi sbaglio quindi l'ho voluta prendere e ne ho prese 3 perché proprio mi piaceva tantissimo l'avevo utilizzata per il matrimonio e l'ho voluta proprio prendere perché sinceramente mi sono trovata bene mi sono trovata bene per quel giorno perché vi assicuro che è difficile che avevo le lentine a contatto faceva caldo ovviamente fotografia e non finire quindi credevo proprio che il risultato fossi tutta macchiata che so perché mi è capitato di truccarmi ma era tipo per le cerimonie dei miei figli tipo battesimo comunione queste cose qua no battesimo no comunione cresima però erano situazioni di pochissime ore non è la stessa la stessa identica cosa un matrimonio che dalla mattina fino alla tarda sera invece devo dire che io sono arrivata a casa e mi sono proprio struccata non credevo assolutamente ma mi sono struccata poi andiamo avanti come blush sinceramente mi piace tantissimo la palettina questa qui di smashbox ma anche il blush di tart la palettina forse l'ho fatta vedere da qualche parte non mi ricordo ora se l'ho fatta vedere o non l'ho fatta vedere però utilizziamo questo qui di tart che è questo blush e io se non mi sbaglio questo blush l'ho trovato exposed si chiama questo blush l'ho trovato nel calendario dell'avvento di sephora allora pigmentazione poca perché questa cioè sto strofinando sorridiamo facciamo un bel make up il colore mi piace perché supergiu è il malva che io prediligo di più in assoluto quindi ovviamente coloriamo anche il naso perché ci arrossiamo sempre e questo come illuminante invece il mio preferito in assoluto ai costi è quello di mac ed è il beaming blush ma io sto notando che mi sono dimenticata di fare una parte di sotto mi sono dimenticata di continuare il make up nella parte di sotto cioè devo mettere sempre rave ma mi sono messa a parlare io quando mi metto a parlare perdo veramente la condizione del tempo non so se a voi capita la stessa cosa prendo il colore più scuro della palettina che è sempre rave cioè io non lo so ma dico io come si può dimenticare ok dovevo fare solo questo non è che dice dovevo fare qualche cosa comunque andiamo a mettere l'illuminante che è questo ed è il beaming blush di mac ed è un bellissimo rose gold e sinceramente mi piace tantissimo abbinarlo a questi tipi di make up non so se si vede mi piace tantissimo e lo metterò anche qui bello poi allora continuiamo per quanto riguarda il contouring io ho utilizzato di più in assoluto infatti l'avete visto è il più utilizzato nei miei video è il bronzer della Too Faced e questo è il chocolate soleil ed è quello proprio più chiaro di tutti è questo qui perché questo è quello che ho utilizzato di più in assoluto abbiamo iniziato forse ad utilizzarlo forse lo dovevo mettere prima vabbè questo video va al contrario non ci fate caso perché sinceramente mi sono incasinata nel nel parlarvi e quindi l'ho messa all'ultima vabbè non fa niente basta che si mette allora questo l'avevo utilizzato in vari video quando mi avevano le angels le angels mi avevano costretto a utilizzare il bronzer credo di averlo messo bene e io dopo che lo metto gli do una spolverata perché non mi piace quando è troppo segnato e tra virgolette siccome io il blush lo metto di norma dopo si mescola bene con il blush e non si vede troppo la differenza perché sennò a me non piace io ovviamente sono fatta così voi potete fare come volete come matite labbra high cost l'unica che vi posso far vedere sono quelle della MAC e oggi andremo a mettere vediamo sono queste no c'è un'altra aspetta allora vediamo adesso lo swatch e vediamo cosa posso mettere una è questo l'altra è questa che forse potrebbe andare e l'altra è questa che è quella che va allora vado a mettere stone stone che con la matita il rossetto mio preferito è stone però andremo a mettere solo esclusivamente la matita vado a prendere lo specchietto quello piccolo i miei preferiti 2020 sono le tinte di sephora sono quelle che diciamo mi sono durate di più in assoluto ed è quella che io prediligo veramente prediligo allora metterò il 23 sulle labbra anche nascondendo la matita e sarebbe questo e poi metto il numero 77 al centro a me è una cosa che stra piace in assoluto allora questa è la combo per quanto riguarda le labbre è una cosa che mi piace fare e la faccio spesso specialmente ultimamente specialmente ultimamente perché ovviamente sapete tutti che le tinte labbra di sephora durano tantissimo tranne la numero 1 la numero 1 non è che mi sia durata tantissimo però ovviamente sono a prova di mascherina adesso si devono asciugare e poi automaticamente faranno il suo effetto molto 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 bello bonus allora questo è il make up che ho realizzato per quanto riguarda i prodotti del 2020 ai cost che mi sono piaciuti in assoluto io mi sono trovata bene con questi prodotti e ovviamente ve li ho consigliati ci sarà il video per quanto riguarda non so se l'ho messo prima o dopo ma credo che lo metterò prima di questo video quindi vedrete i miei preferiti sia per quanto riguarda low cost sia per quanto high cost questo è tutto diciamo una parte dei prodotti che ho utilizzato in questo 2020 perché ovviamente col fatto che non si poteva uscire con il fatto che cerimonie cavoline varie non ce n'erano e tutto quindi ovviamente non si ha proprio la possibilità di usufruire dei prodotti perché non è che io mi trucco tutti i giorni specialmente con prodotti ai cost mi sono affacciata tra virgolette adesso e quindi infatti avete visto anche il video per quanto riguarda i fondotinta che ne ho presi abbastanza proprio per valutare la differenza da un prodotto low cost come potrebbe essere un fondotinta di Astra che mi è piaciuto tantissimo con prodotti high cost come diciamo Urban Decay Charlotte Tiburi e tutto il resto della combriccola allora per quanto riguarda questo video è tutto io ringrazio tantissimo Fabiana e Betty per aver fatto il video in collaborazione con me spero che questo video vi sia piaciuto e ovviamente vi mando un bellissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima quindi come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao